Stamattina intorno alle 9 e meno un quarto diciamo, dei bambini appena arrivati sono buttati in acqua, solo che la corrente forte che c'è vicino agli scogli l'ha subito trascinato più a largo, su per giù, quasi verso la fine degli scogli, dopo la metà degli scogli. Io stavo venendo da qui, il ragazzo che è deceduto subito si è gettato in acqua, pur avendo paura dell'acqua, pur non sapendo nuotare per salvare i bambini, ha sopraffatto la sua paura del mare e quindi si è buttato in acqua. Una volta salvati i bambini ho cercato di salvare anche lui perché si dimenava non sapendo nuotare, però è entrato nel panico e non c'è stato modo di effettuare manovre di salvataggio né altro. Purtroppo a causa della paura penso abbia avuto uno shock, un infarto ed è andato più a largo. Poi dopo successivamente col pattino lo sono andato a prendere con l'aiuto di un altro bagnante, siamo arrivati qui e poi è intervenuto alla capitaneria di Porto. Per entrare in acqua lui già li aveva presi i bambini e li ha dati a me, io poi li ho dati al genitore, al padre, a un altro ragazzo, ora non ricordo bene, e poi ho cercato di salvare lui perché era in difficoltà non sapendo nuotare, però non c'è stato modo di fare altro. Erano due bambini su per giù, dell'età di uno sui 7-8 anni, l'altro 11 anni penso. Erano lì, diciamo l'ombrone di fronte alla scogliera, proprio lì vicino. Il gestore era lì vicino all'entrata dove siete entrati anche voi, e lui è stato il primo a vedere i bambini in acqua che erano trasportati dalla corrente. Lui si chiamava Rahal Amarri, che da noi si faceva chiamare Saeed e aveva 42 anni. Sono 14 anni che era qui insieme a noi, era parte della famiglia, era come un fratello per noi, era conosciuto dappertutto sul litorale, nel villaggio Coppola, si faceva volere bene da tutti e aiutava tutti quanti. purtroppo è stata una vera e propria tragedia.